ora la fascia di colori credo che sia una delle fripe grazie per la collaborazione cosa sono questi lavori? le buone frappe dell'ambiente allora dobbiamo riciclare dobbiamo usare meno plastica chiudere il rubinetto dell'acqua mentre ci laviamo i denti usare meno elettricità mangiare cibo che non proviene da lontano e cose che non dobbiamo fare non dobbiamo non dobbiamo bravissime maestre bravi da noi bravi bambini guarda le api escono da sopra ancora un attimo la prima fila ci puoi in ginocchiavi senza appoggiare i ginocchiavi si ho appoggiato il bambino si ma per me mi piace ehi vado senza appoggiarmi per terra la nostra guarda ma questo è bello si si un'altro è ben girato un po' di bello quando ci viene quando ci viene quando ci viene non ti lascia sono mi sta presa male si perché perché no no è buona si è buona che belle adesso mi sta facendo non mi sta più vedi quella puggiata l'ho vista anch'io è andata dall'altra volta è vero ecco l'ho vista